Eccola finalmente la novità 2017 giapponese svelata in Italia alla scorsa edizione dell'EICMA e la Z900 firmata Kawasaki, una super naked per riders che cercano il perfetto equilibrio tra potenza e maneggevolezza. Il nuovo modello di Akashi è spinto da un poderoso motore 4 cilindri 4T da 948 cm3, 124 cavalli di potenza, posizionato in un inedito telaio in tralicio con tubi in acciaio e frizione morbida, assistita con un sistema anti-saltellamento sviluppato in collaborazione con il reparto Corse. La scelta di un motore a 4 cilindri in linea classe 900cc, costante configurazione del marchio nipponico, rivela il carattere di questa Super Naked. Ogni soffio di gas viene premiato da una risposta pronta e fluida ed ha un'accelerazione eccitante. I pistoni pressofusi, alleggeriti con camera aperta di raffreddamento, prodotti nello stesso modo di quelli che spingono la Ninja H2-H2R, offrono una risposta decisa ad ogni apertura di gas, con una spinta molto consistente a partire dai simili agiri. Distribuzione di OHC 16 valvole e 73,4 mm di alesaggio per 56 mm di corsa, sono stati scelti per enfatizzare il carattere del motore, erogazione lineare e progressiva. Salendo di giri, l'erogazione fluida della potenza lo rende estremamente gestibile, ma l'inconfondibile nota in aspirazione invita a dare più gas. Il telaio leggero offre la stessa duplice attitudine, l'elevata maneggevolezza porta ad agevolare una guida sportiva, mentre il peso ridotto e la sella bassa della Z900 la rendono facile da controllare. La risposta del motore è facile da gestire e l'ampia angolazione dello sterzo facilitano ulteriormente le manovre a bassa velocità. Kawasaki crede da tempo che i modelli super naked debbano essere qualcosa in più di moto super sportive e private della loro carenatura integrale. Pensata per suscitare l'amore a prima vista, la linea aggressiva tipica della serie Z della Z900 è completata dall'elegante scocca che si stende sinuosa dallo sterzo al codino ed è abbinata ad un coperchio motore animalista. Importanti dettagli che sottolinano l'immagine agile e leggera che riflette le sue prestazioni sportive. Tutto questo in perfetto stile su gomi, termine con il quale si identificano non solo le prestazioni ma anche gli elementi stilistici che rappresentano i modelli della serie Z di Kawasaki. La guida di una super naked Z900 si rivela un'esperienza viscerale che stimola i sensi. Basta vederla per innamorarsene. Stabilità e controllo vengono garantiti da un mono ammortizzatore posto in posizione orizzontale e dal forcellone in alluminio che pesa solo 3,9 kg e contribuisce a diminuire le masse non sospese. Davanti troviamo una forcella rovesciata da 41 mm dotata di regolazione del precarico della molla nello stelo sinistro. Quanto ai freni abbiamo doppi dischi con profilo margherita semiflottanti da 300 mm con pinze a 4 pistoncini all'anteriore e uno da 250 al posteriore. La strumentazione è mista, analogica e digitale. Il layout è di facile lettura con un utile indicatore della marcia inserita al centro e tre modalità del display LCD multifunzionale selezionabili dall'utente. Completano la linea aggressiva da Super Naked il design a Z delle incisive luci posteriori a LED. La Z900 Kawasaki è disponibile in 4 livree e prezzi a partire da 8.990 euro.